allora ragazzi eccoci qui per una nuova recensione oggi vi porto queste due bellezze novità in casa seco ecco qua abbiamo due dei nuovi seco 5 sport orologi che appena aperta la scatola mi hanno proprio fatto innamorare ringrazio la giolleria monti che me li ha mandati gentilmente ciao daniele e vi ricordo che nel sito della giolleria monti sul nel carrello con il codice collector potete avere il 20 per cento di sconto su tutta quella che è poi l'esposizione di orologi per quanto riguarda i seco ringrazio sempre comunque e saluto gli amici del gruppo 1881 emanuel maggioli vi ricordo che se volete video di approfondimenti di storia in generale su seco sul mondo seco che è un mondo bassissimo vi consiglio di andare anche sul loro canale youtube oppure sul forum del gruppo 1881 ciao emanuel per quanto riguarda le fiere giusto qualche comunicazione di servizio abbiamo la nostra fiera il 25 26 maggio alla reggia di porti ci sarà una fiera ragazzi incredibile una struttura molto grande molto bella che accoglierà orologi tra nuovo e vintage veramente tantissimi orologi quindi ragazzi vi aspettiamo numerosi saluto mariano di mdm vintage e tutti gli amici di ad hoc gaetano del di watch emur e luigi della bottega dell'orologio e un saluto a mister omega orologi come vi ho detto molto molto belli adesso li andremo a vedere insieme vi voglio ricordare sempre di seguirmi e di scrivervi se non lo fate ragazzi per me è una cosa importante magari per voi non conta niente va bene andiamo a vedere gli orologi ciao eccoci qui ragazzi con il nostro bellissimo orologio seco in realtà i nostri perché ne abbiamo due versioni una più bella del altra allora giusto per fare qualche accenno storico ma ragazzi non sto qui a fare accenne storici diciamo che il marketing seco ha dato questi orologi come diciamo i successori direttamente ispirati agli snx s che è una serie che ha fatto molto molto successo di seco sarebbero i seco 5 basici che tra l'altro sono ancora tranquillamente in produzione anche se non per il mercato europeo quindi una linea che continua ad esistere sono stati quegli orologi che hanno appassionato molti al diciamo al marcio seco perché erano orologi fatti molto molto bene anche se non a questi livelli qui qui c'è stato diciamo questi sono orologi moderni quindi sono un po tutti migliorati orologi moderni rispetto ai vintage rispetto a molti vintage per qualcuno forse no però comunque diciamo che diciamo il marketing seco ha usato il fatto di sponsorizzare questi orologi come successori diretti di quelli non è proprio così anche perché anche gli snxs che avevano comunque la cassa attorno come questa poi si ispiravano diciamo ai 6619 i 6119 i 7.900 fino poi agli s i 7 s 26 che erano proprio dal 1996 di snxs quindi diciamo non andiamo a fare un paragone con quegli orologi la ma sappiamo che c'è un filone c'è è stata una ripresa soprattutto del nome da parte del marketing proprio per probabilmente enfatizzare un po questo lancio l'orologio vi posso dire assicurare ce l'ho tra le mani ci tengo molto a precisare una cosa ragazzi non faccio mai video senza l'orologio tra le mani mai quindi avevo già seguito video anche di altri amici e colleghi youtuber come i stessi del gruppo 1881 dove loro comunque fanno anche informazione sulle nuove uscite eccetera eccetera a me sapete che piace fare la recensione orologio alla mano quindi ho aspettato che l'amico della geleria monti daniele ve li spedisse orologio che secondo me è molto molto bello questo qua champagne mi ha rapito ragazzi più del nero sono per il nero sono belli contrasti però questo qua champagne mamma mia tra l'altro c'è anche un'altra colorazione che è quella la blu ma questo qui ragazzi mi ha rapito voglio un attimo girarmi un attimo più a filo di luce ma guardate qua che bellezza mamma mia voglio vedere anche l'altro no ma questi sono troppo belli si erano oggi comunque abbiamo ci siamo tenuti più o meno nelle dimensioni di n di sn xs abbiamo 37,4 mm di diametro quindi ottimo 12,5 di spessore 44 di lag to lag il cinturino che è un bel 18 che finisce 16 un orologio praticamente portatile da tutti da uomini ma anche da donne ragazzi perché 37 mm sono tranquillamente portatili anche da una donna anzi le donne indossano gli orologi ormai più grandi di quelli degli uomini e orologio molto molto bello per quanto riguarda ovviamente la il movimento abbiamo il nostro carissimo 4 r 36 in questo caso a vista un movimento che conosciamo molto molto robusto 21.600 alternanze ora 24 rubini 41 ore di riserva di carica un vero mulo è infaticabile adesso voglio passare un attimo al quadrante che secondo me è la parte più bella di questo orologio allora abbiamo gli indici che si rifanno molto agli stilemi seco ricordano un po quella diciamo del 62 massima guardate qua questi indici ragazzi che vi fanno stupendi sono poi tra l'altro lavorati molto molto bene in questo caso rispetto sempre agli sn xs ma vi ho detto che non è un paragone perché assolutamente non può essere questo abbiamo il reo a contrasto allora grazie a me vi devo dire la verità il fatto che ci sia il reo non tanto a contrasto in generale preferisco gli orologi che hanno questo reo all'interno non mi piacciono quelli là dove diciamo si vede l'acciaio della cassa vi dico la verità perché sembra che riempie un pochino di più l'orologio da un po più di importanza al quadrante alla lavorazione generale quindi a me piace in questo caso le hanno voluto mettere un pochino a contrasto infatti qui abbiamo sul nero l'anello beige crema e su questo qui che è praticamente uno champagne non è proprio un oro l'abbiamo nero guardate qua ragazzi che si era fatto un lavoro veramente molto molto bello abbiamo delle sfere che mi piacciono anche le sfere sono curate bene vedete la particolarità qui in punta diciamo in punta sia delle ore che dei minuti abbiamo la ha reso l'orologio ancora un po più sportivo perché gli snxs erano leggermente più classici rispetto a questi abbiamo la sfera dei secondi arancione scritta seco vedete sempre a rilievo e abbiamo la scritta automatic in basso sono dei day date abbiamo la corona che qui a sinistra sporgente e qui abbiamo il datario tra l'altro da quello che vedo sono inglese e cangi se ho detto bene poi magari manuel mi correggerà e andando in basso abbiamo i giorni tra l'altro finestrella curata e sfondo nero quindi niente da dire tutto bene si manovra benissimo si riesce a sfilare è leggermente comunque esterne tra l'altro molto leggera proprio per permettere anche la carica manuale perché ricordo che i movimenti 7s 26 non portavano la carica manuale questi qui ce l'hanno mi faccio vedere anche di qua in questo caso la finestrella è nera riprende un pochino il reo ci sta anche se si nota molto di più la finestrella data su questo guadalante champagne ovviamente che rispetto al nero dove era nero sul nero anche se questo qui champagne mi rapisce molto la cassa è molto molto bella abbiamo un satinato anteriore con un filo lucido è ancora satinato cassa lavorata molto molto bene forma classica tonno come diciamo che riviene dai 66 19 60 61 19 7mila 9 7 c'è praticamente ci ha 60 anni di storia questo stilema da parte di seco molto molto bella e tra l'altro il bracciale a maglie piene molto molto migliorato rispetto diciamo alla serie snx mi piace molto anche la forma e il tipo di satinatura abbiamo una scatoletta che ha comunque una micro regolazione non è male anche se preferisco sempre leggermente leggermente più lunghe poco poco però abbiamo un bel loco seco stampato qui vi faccio vedere anche l'orologio del giorno prima di passare alla prova polso e al prezzo l'orologio del giorno è un bellissimo sector golden eagle 100 versione al quarzo cassa magnifica anzi a forma di ragno orologio che mi sta accompagnando da qualche giorno ogni tanto sto comunque prendendo qualche pezzo dalla collezione orologio molto molto bello anche il suo cinturino originale infatti questo che era un fondo di magazzino però in questo caso ho messo un cinturino nero per tutti i giorni allora ragazzi i prezzi vi faccio vedere le referenze srp k 9 1 k 1 srp k 8 9 k 1 adesso non ricordo precisamente quale è del nero e quale di quello la champagne però diciamo le referenze sono queste il costo di 400 euro considerato già il 20 per cento di sconto con la giuleria monti abbiamo 320 euro ragazzi sono orologi che sono saliti di importanza costruttiva a mio avviso soprattutto da parte del bracciale ma anche da parte della cassa anche il movimento è un upgrade rispetto al 7s 26 ragazzi è aumentato tutto ce lo tengo a precisare perché molti dicono vabbè sì però si trovavano a 100 150 200 euro ragazzi tutto è aumentato pagate la benzina di più pagate il gas di più pagate la corrente elettrica di più pagate paradossalmente anche una margherita molto di più a prima è raddoppiata si trovavano qui le margherite a 4 euro io sono di quindi sono logiche sono me sono costruiti meglio ma è ovvio rispetto agli altri e costano di più costano quindi 320 euro ma sono molto molto belli vi faccio vedere anche il vetro che è leggermente bombato qui al centro un vetro hardlex molto molto robusto da ottimo uso quotidiano segue maestra per i vetri hardlex le anze forate ragazzi giudicate voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ciao ciao